La foto verifica è il cambiamento più globale che è entrato recentemente nel mondo dei sistemi di sicurezza. Non riesco a immaginare il futuro della protezione contro le intrusioni senza il supporto del video. Queste due tecnologie sono collegate sempre più strettamente e naturalmente la cosa più importante è il modo in cui la foto verifica è integrata con il software di monitoraggio. Questa è una delle nostre attuali strategie. Se utilizzate Monitoo, SBEN, AB Systems, potete ricevere la foto verifica alla stazione di monitoraggio oggi stesso. Ci sono circa altri 10 tipi di software nel processo di integrazione. Vorrei rivolgermi agli sviluppatori di software di monitoraggio e agli istituti di vigilanza. Se siete interessati a integrare la foto verifica nel vostro sistema, contattateci. Possiamo fornirvi il nostro protocollo HML o Lapid Cloud per integrare la foto verifica del vostro software o pianificare l'integrazione del supporto per i vostri protocolli nei nostri prodotti. Questa è una priorità assoluta per noi, perché a nostro avviso questo è probabilmente il nostro punto debole. L'attenzione verso gli utenti è sempre la voce più importante della nostra tabella di marcia per lo sviluppo. E obiettivamente non siamo stati abbastanza attenti ai nostri partner, che si occupano di monitoraggio. È ora che le cose cambiano. Oltre all'integrazione con il software di monitoraggio, vogliamo mostrarvi qualcosa di interessante. Facciamo un passo indietro. Nel 2018 abbiamo presentato gli aggiornamenti del nostro AX Pro Dexto con la funzione di monitoraggio. Questa funzionalità ci ha permesso di avviare un dialogo e di vedere i problemi dell'attività di monitoraggio. Il prodotto non ha avuto molto successo. Lo hanno usato in pochi. In due anni ci abbiamo pensato molto, abbiamo discusso, lanciato e ritirato prodotti destinati al monitoraggio. E oggi siamo lieti di presentare il 911, un software di monitoraggio cloud di AJAX. Quali sono le cose da sapere? 911 necessita solo di un paio di minuti per essere utilizzato. Lo avete visto. Dico sul serio. Basta scaricare 911 sul vostro computer, creare un account come sui social e siete pronti per il monitoraggio. Due. È richiesta un'infrastruttura minima. Non è più necessario occuparsi dei server. Ce ne occupiamo noi. Con una disponibilità garantita del 99,9%. Basta avere un MacBook Air per monitorare decine e migliaia di oggetti. Tre. È richiesta un'amministrazione minima da parte vostra. Se i vostri esperti sanno installare il software su un PC e registrarsi su Facebook, possono tranquillamente gestire l'installazione e l'amministrazione di 911. Tutto il lavoro pesante spetta agli sviluppatori di AJAX. 4. Recupero immediato del centro di monitoraggio. Tutto può succedere. Disco rigido colassata, cattiva connessione, attacco dei Raider. Nessun problema. Basta scaricare 911 su un altro computer. Effettuate il login e accedere immediatamente alla stazione di monitoraggio. 5. Integrazione perfetta con l'ecosistema AJAX. Ora, per raggiungere un impianto al monitoraggio, è necessario duplicare i dati che sono già nel nostro cloud e hub. Nel caso di 911, la maggior parte dei dati migrano semplicemente su 911 dal cloud AJAX, il che riduce il tempo necessario per creare un impianto ed evita molti errori di manutenzione del sistema. 6. Scaling senza problemi. Non dovete più preoccuparvi che l'infrastruttura risponda male. Quando la clientela cresce, pensiamo noi al bilanciamento del carico e dello scaling. Le tecnologie che utilizziamo sono state originalmente progettate per essere resistenti. Oggi gestiamo un milione di pacchetti al minuto e possiamo tranquillamente raddoppiarli in una settimana. 7. Scordatevi il periodo di polling una volta ogni 24 ore o ogni 15 minuti. Non è una cosa che fa per noi. La segnalazione di grado 4 significa che saprete che un impianto ha perso la connessione in pochi secondi. Questo non aumenta in alcun modo il carico sui vostri server? Ci pensiamo noi. Voi sarete in grado di fornire ai vostri clienti il livello di sicurezza di una banca. 8. Accesso immediato a un archivio di un anno in un secondo. L'analitica diventa così piacevole, non un dolore. Così otterrete un nuovo campo, l'ottimizzazione dei costi del vostro business, dei servizi, con indagini rapide sugli incidenti ed ottenere tutti i dati in un secondo. 9. La foto verifica istantanea. Si tratta di una funzionalità di base 911. 10. Un nuovo servizio che potete offrire al mercato è il monitoraggio del pulsante mobile antipanico. Quando un utente prema il pulsante antipanico all'interno dell'applicazione, riceverete le coordinate del luogo in cui si è verificato l'evento. Sarete quindi in grado di monitorare gli impianti e di garantire la sicurezza personale delle persone e questa è una funzione istantanea. 11. Supporta H24 360 giorni all'anno, 7 giorni su 7, sempre. Per quanto riguarda 9.1.1, oltre al Fantastico X, siamo davvero orgogliosi delle sue componenti. 9.1.1.1 è realizzato interamente grazie alle più recenti tecnologie dei server. I dati vengono memorizzati nel database Mongo, che è il molto più affidabile, performante del classico MySQL. Messaggistica interna. Tramite NATS, i messaggi interni non vanno persi anche se parte del sistema interroppe il funzionamento. Il progetto è scritto in Kotlin, attraverso la programmazione reattiva, che permette di sviluppare i prodotti server più stabili molto più velocemente. Inoltre, questo prodotto è il primo a utilizzare il nostro nuovo protocollo HTS 2.0, che rende il trasferimento dati tra i server e app ancora più veloci e sicuri. È la parte più bella, che è già disponibile per il beta test e potete tranquillamente richiederlo inviando una mail o al vostro responsabile Ajax di zona, oppure all'ingegnere tecnico responsabile in Italia, per conoscere i costi, la procedura e accedere alla versione beta 911. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS